Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 4 novembre. Si ricorda San Carlo Borromeo. Il nome Carlo, di origine medievale, viene dal tedesco Karl, che significa uomo. San Carlo Borromeo è patrono dei catechisti, dei maestri, dei librai e dei rilegatori di libri. Dice il proverbio, ricchi si diventa, signori si nasce. Sono nati oggi Platinet, Marina Suma, Francesco Testi. Il 4 novembre 1922 nasce la seconda rete Rai. Sin dal primo giorno di trasmissione andò in onda anche il telegiornale del secondo programma, dedicato a quei telespettatori che avessero perso il notiziario del primo canale. Il 4 novembre 2003 viene osservato il più potente flare solare mai registrato. Il flare è una violenta eruzione di materia stellare che sprigiona un'energia equivalente a varie decine di milioni di bombe atomiche. Infine, il 4 novembre 2007, l'egittologo Zaki Awash riesuma il sarcofago del faraone egizio Tutankhamon. Per la prima volta tutto il mondo può vedere il vero volto del sovrano bambino. Roger Debussy Rabutin ha detto, quando non si ama troppo, non si ama abbastanza. Arrivederci da Barba Nera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia.